Mentre il Comune analizza le opportunità di un appalto della piscina a un gestore privato, la Federazione Italiana Nuoto, che da luglio ha rinnovato la concessione semestrale dell'impianto di piazzale Atleti Azzurri d'Italia, prepara la contromossa. Il direttore Riccardo Lancetti, da quanto è trapelato, può contare su un bilancio ancora più positivo che nei sei mesi precedenti, in crescita dai 150.000 ai 200.000 euro. L'idea della Federazione è presentare al Comune una proposta più vantaggiosa del bando di gara, con il sostegno delle società sportive cremonesi, che da parte loro stamattina hanno fatto pervenire alla Presidente del Consiglio Comunale, Simona Pasquali, una lettera in cui minacciano di non usare più la struttura se l'appalto sarà vinto da Sport Management, la società che gestisce già 50 centri natatori in Italia e che in caso di gara ha una potenza economica e organizzativa difficilmente superabile, anche perché gode di diritto di prelazione a parità di offerte, avendo presentato già un progetto. Può farcela la Federazione a presentare una proposta migliore scongiurando la gara d'appalto? La gestione è inattiva e la struttura è frequentata da oltre 50.000 persone l'anno, inoltre il cambio di direzione da luglio ha fatto diminuire le spese a carico del Comune. Società e Federazione cercano di dimostrare che la gestione attuale pubblica può presentare i conti in ordine migliori di quelli dello stesso progetto consegnato nei mesi scorsi da Sport Management, che propone una concessione di ben 25 anni con un versamento annuo a spese del Comune di 230.000 euro destinate ad aumentare se le previsioni di cassa del privato non saranno raggiunte con lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria quasi tutti in capo al Comune. Andrea Sozzi, di Obiettivo Cremona, con Perri, sostiene le società e la Federazione, evitando però sia un'operazione di tipo politico che il sostegno all'esposto di Marcello Ventura, dei Fratelli d'Italia. Le società Canotti e Ribaldese, Obisolati, Flora e oltre alla Stradivari e Delfini Cremona Onlus hanno fatto sapere a Simona Pasquali che sarebbe stato più corretto coinvolgerle nelle decisioni per una possibile riorganizzazione invece di concedere a Sport Management il diritto di prelazione e poi dare informazioni a giochi fatti. Così le società pensano già a servirsi di una propria piscina, dato che il 70% degli utenti a Cremona è garantito proprio da queste ultime. Si tratta di 700 atleti, di circa 300 adulti iscritti alle sezioni master. Da parte sua, Filippo Bonali, della lista civica di sinistra, ha presentato oggi una sua interrogazione nella quale critica i ricevimenti privati organizzati durante la gestione precedente all'era Lancetti e insiste sulla necessità di garantire tutti i cittadini, non solo le società. Si pronuncerà quindi il Consiglio Comunale, forse già nelle prossime riunioni.